Sono saliti a 5.791 i casi di coronavirus in Lombardia, 322 in più rispetto a ieri, molti meno dei 1.280 in più registrati tra ieri e l'altro ieri. Mancherebbero però gli esiti di numerosi tamponi. I decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 135, ma è salito anche il numero dei guariti, 896, 250 in più rispetto a ieri. Il dato più significativo però per il presidente Lombardo Attilio Fontana è l'evoluzione del contagio nell'Odigiano, l'ex zona russa, dove il numero dei casi si sta riducendo. Dobbiamo insistere perché l'unica medicina che in questo momento abbiamo per interrompere questa situazione è ridurre i contatti tra le persone, ridurre il contagio. Per questo il presidente, a nome anche dei sindaci Lombardi, ha chiesto al governo di inasprire le misure in tutta la regione, fermare per due, tre settimane tutte le attività imprenditoriali e produttive e tutti i servizi pubblici e privati non essenziali, trasporti compresi. Fermarsi tutti e subito per ripartire prima, una linea condivisa anche da CGL, Cisle e Willi. Perché è chiaro che tutti pensano che la situazione rientra a breve. Non è così, le strutture sono in tensione, sono vicine al collasso. Questa richiesta ci viene soprattutto dai nostri associati, dagli addetti della sanità, dagli addetti di trasporti, che chiedono con forza di bloccare tutto appunto per permettere di far corso a quella che è l'emergenza sanitaria, per poi tutti assieme riprendere il cammino verso una nuova crescita, una nuova Lombardia.